La decima edizione della settimana biblica diocesana ad Andrea dopo gli interventi dei relatori nelle tre serate dedicate all'approfondimento si conclude domani, domenica e in replica lunedì 26 febbraio con lo spettacolo Chi sei tu? Vangelo dell'asino paziente di Antonio Pansuto e Alessandro Tognon, vincitore nel 2015 al Festival del Sacro di Lucca. Narra la storia del figlio di Dio attraverso la storia dell'asino che trasporta devotamente Gesù accompagnandolo nei vari episodi biblici. Sentiamo. Conclusa la decima edizione della settimana biblica diocesana dedicata al tema della Sacra Scrittura nella vita e nella missione della Chiesa ma non finisce con le tre lexium magistralis. Quest'anno c'è una novità perché si celebra un po' la decima edizione, si è pensato di farlo con uno spettacolo teatrale Chi sei tu? Il Vangelo dell'asino paziente. Uno spettacolo peraltro pluripremiato che si consiglia insomma di vedere, don Giallo. In effetti è la grande novità un po' di questa edizione della settimana biblica. Uno spettacolo teatrale perché? Perché il linguaggio teatrale come il linguaggio della musica, come il linguaggio della poesia ecco sono linguaggi inclusivi capaci pertanto di raggiungere tutti e oggi come oggi una Chiesa che evangelizza deve impegnarsi necessariamente a raggiungere tutti attraverso anche linguaggi nuovi. Nella fattispecie lo spettacolo Chi sei tu? Vangelo dell'asino paziente narra proprio la storia del figlio di Dio attraverso la storia di un asino che accompagna devotamente Gesù nei vari episodi biblici. L'autore è Antonio Panzuto che ritorna nella nostra città in quanto è già stato presente in tre edizioni del Festival Castel dei Mondi. Lo spettacolo appunto viene presentato sia domenica e poi replicato lunedì proprio per favorire una maggiore partecipazione. Uno spettacolo adatto per adulti ma anche giovani e ragazzi per cui ci auguriamo davvero che possa vedere una buona partecipazione.